Fabrizio Carucci, cominciamo dal titolo Storie di iperperplessi. Come mai questo titolo? Storie di iperperplessi perché la perplessità è ciò che accomuna i personaggi di questo libro. Perplessità intesa come voglia di farsi domanda, di non accontentarsi dell'apparente, insomma. Quindi ricercare di andare oltre quelli che sono i modelli televisivi dei vari tronisti, quelli che sono, che il sapere promosso dall'università, un sapere che per quanto indispensabile è necessario, un sapere comunque accademico e per alcuni aspetti politicamente corretto. Quindi i personaggi di questo libro ricercano attraverso varie vie, guardandosi intorno, ricercano attraverso film, documentari, letture, informazioni, ricercano altro, ciò che va oltre il palestemente visibile. Come potrebbe essere la storia di chiunque, di un giovane qualsiasi che parte dalla periferia della provincia di Salerno, dal sud del Valodiano, per poi andarsene fuori, andarsene a Roma, casomai? C'è un po' di autobiografia in questo libro? Diciamo che il libro non è autobiografico. Chiaramente ci sono dei riferimenti a quella che è stata la mia esperienza, in quanto appunto studente che parte dalla periferia delle campagne e va a studiare a Roma. Ci sono dei riferimenti a persone che a vita, insomma, che mi sono passate accanto, che sono intersegate con me, con la mia vita, e di conseguenza chiaramente in ogni scritto probabilmente c'è qualcosa di autobiografico. Certamente questo libro non ha uno scopo esclusivamente autobiografico. Maurizio, che cosa ostacola, soprattutto, ecco, quali sono i tuoi ostacoli più importanti, più grossi che hai trovato sulla tua strada come giovane scrittore, come scrittore che per la prima volta si dedica, come dire, a questo tipo, chiamiamolo, di lavoro? Beh, quando un giovane scrittore si avventura nell'avventura appunto di scrivere un libro, pensa comunque che sia facile pubblicare, quindi si rivolge alle grosse case editrici, quindi mondatori, feltrinali, eccetera, eccetera. Dopodiché si accorge che comunque una pubblicazione per uno scrittore sordiente è qualcosa di diverso e quindi deve partire da altri canali, quindi si comincia a spedire i dati lo scritti, va a molte case editrici, dopodiché si scopre quello che è un po' il mondo editoriale, si scoprono varie realtà editoriali italiane, piccole e medie, in realtà l'editoriale italiano è molto vasta. Varie fregature anche. Ci provano in molti, insomma, ci sono molti editori di piccole e medie dimensioni che non sono editori, sono delle stamperie, sono delle tipografie, insomma, che si definiscono come editori e chiedono dei contributi altissimi a scrittori sordienti, ma in questo modo poi non si occupano poi di quella che è la distribuzione o comunque della pubblicizzazione del libro, il libro magari finisce in alcuni cataloghi, però poi fondamentalmente rimane in questi cataloghi, molte volte i cataloghi sono molto vasti e quindi il libro non ha nessuna visibilità. Io consiglio a chi comunque si avventura appunto nel mondo della scrittura di valutare comunque tre cose sulla scelta di un editore, che sono la distribuzione, il numero dei libri che pubblica, meno libri pubblica, meglio è il contributo, non deve chiedere un contributo, o se comunque chiede un contributo non deve essere bassissimo. Il tuo primo romanzo, o ne seguiranno altri, ne hai già qualcuno in mente? Sì, lo scrivere è una mia passione, è diventata quasi una missione per me, quindi oltre a quello che faccio nella vita continuerò a scrivere, sto preparando un secondo lavoro, che è una raccolta di racconti che credo di sistemare del tutto per l'anno prossimo e spero di pubblicare a metà dell'anno prossimo, prevedo il giugno del 2010.